complimenti fieric complimenti complimenti buonasera io sono fan fieric non sapevo cosa portare però stamattina le 10 del mattino ho visto su youtube che rick ha raggiunto il 500k il mezzo milione finalmente porco di sono sinceramente molto felice per fieric perché aspettavo sta cosa del mezzo migliore da un po e finalmente ce l'ha fatta oppure pubblicato una storia su instagram dove parlo dicendo i complimenti e tanti applausi complimenti davvero fieric sono davvero contento per lui aspettava sta cosa di 500k da tanto sono davvero contento per lui niente questo video è molto corto però volevo farlo vi saluto arrivederci a proposito devo registrare la fancraft se ci riesco ciao ciao ciao